È la prima volta che vendo questa targhetta. È rosa con i cuori ed è dedicata al film di Barbie. Poi abbiamo Pepe e Holly, che sono un maltese e un cagnolino personalizzato. Aggiungiamo anche gli accessori in rosso e poi andiamo a prendere una zampina rosa glitterata e una nappina azzurra. La zampina è per l'una. In questi giorni fino al 31 agosto c'è una sorpresa in regalo effettuando un ordine. Guardate gli ultimi video se siete curiosi. I portachiavi ora hanno tutti i loro accessori e sono pronti per partire. Seguimi per altri video!